Ciao a tutti, allora oggi parliamo di Gabigol. In tanti sotto video di ogni genere mi scrivevate ma adesso Gabigol che fine farà? E tuttora sotto alcuni video ancora vedo domande del tipo ma Gabigol resta, andrà via? Allora vediamo un po' di fare chiarezza. In merito all'Inter Gabigol ha rilasciato alcune dichiarazioni ed ha detto di non essersi assolutamente pentito di essere arrivato all'Inter che sì al Santos stava bene però comunque ha rinunciato per arrivare in una grande squadra l'Inter appunto. Ha detto di voler lavorare, di voler rimanere perché comunque all'Inter è felice. Per quanto riguarda la stagione passata noi sappiamo benissimo che Gabigol non ha per niente avuto spazio perché l'abbiamo visto praticamente nel secondo tempo e quasi sempre negli ultimi minuti appunto del secondo tempo per cui io per esempio da parte mia non mi sento assolutamente di andare a criticare un giocatore che tra l'altro ho visto poco e niente perché alla fine per criticare ma anche per apprezzare o per dare comunque un parere generale su un giocatore bisogna prima vederlo giocare ovviamente. Non sto qui a dirvi che Gabigol secondo me dovrebbe andare o non dovrebbe andare. Quello spetta a Spalletti che è il nuovo allenatore dell'Inter e deve un po' vedere chi serve e invece chi no. Ovviamente sì, bisogna costruire una squadra titolare ma non bisogna neppure essere stolti a lasciare i panchinari perché ricordiamoci che anche, voglio dire, poi i ragazzi che andranno ad occupare la panchina servono, servono sì. Per cui vedremo quelle che saranno le volontà di Spalletti. Come ha detto nelle sue dichiarazioni bisogna prima vedere i giocatori che si hanno prima vedere chi si potrebbe in un certo senso dare via per puntare su un probabile mercato. Allora, quindi Gabigol non ha avuto per niente spazio quest'anno e devo dire che, voglio dire, sono scoppiate polemiche su polemiche riguardo questo giocatore perché non si capiva il perché e speriamo che comunque venga inserito, spero comunque di vederlo giocare, insomma, di venderlo sicuramente non lo venderanno, cioè è assurdo, allora perché me lo compri? Allora, voglio dire, perché me lo compri a 30 milioni? E si sta parlando soltanto di un anno fa perché l'hanno preso proprio l'anno scorso, per cui no. Infatti proprio per quanto riguarda questa stagione passata, scusate la luce, Gabigol ha detto che la prima stagione è sempre quella più difficile, però comunque io voglio continuare a lavorare e voglio rimanere all'Inter. Ovviamente non oso immaginare come un ragazzo di quell'età si possa sentire in una situazione come quella che è stata appunto quella di Gabigol, per cui dobbiamo essere in un certo senso fiduciosi, fiduciosi soprattutto in Spalletti, in quello che Spalletti sta costruendo poi con la dirigenza e tutto quanto, fiduciosi comunque anche nei confronti dei giocatori ragazzi, quello in primis e inoltre anche dichiarato riguardo alla nazionale brasiliana che sta lavorando duramente perché proprio il suo obiettivo, il suo primo obiettivo è quello di essere convocato nella nazionale brasiliana, per cui, per cui, diciamo che dalle sue dichiarazioni non sembra che Gabigol è in procinto di andar via, questo non lo so, ovviamente bisogna vedere, come ha detto Spalletti, lo ripeto adesso, bisogna vedere prima i giocatori che si hanno, cercare un po' di vedere intesa, bisogna vedere comunque un milione di cose, quindi aspettiamo, vediamo e siamo fiduciosi, fatemi sapere cosa ne pensate voi, vorreste Gabigol oppure no, oppure magari non so, lo dareste in prestito, fatemi sapere e io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento al prossimo video.